Sicuramente ti starei vedendo tantissimi video sul dopamine detox, come il dopamine detox mi ha cambiato la vita, ecco ho fatto il dopamine detox per 30 giorni ed è successo questo, già sai che il dopamine detox ti potrebbe servire, è una cosa utile, hai già capito i benefici che ti potrebbe dare, i benefici reali che potrebbe apportare alla tua vita, però ancora non ti sei approcciato. Bene, meno male che sia capitato su questo video, perché a differenza del 99% dei video lì fuori, soprattutto in Italia, ti mostrerò una prospettiva che realmente non hai mai sentito, perché molti approcciano il dopamine detox, ripeto soprattutto in Italia, come una challenge, 30 giorni di qui, 30 giorni di là, la challenge dei 45 giorni, il dopamine detox per 10 giorni e curerai la tua voglia di fare abitudini negative. Tutto questo è assolutamente inutile, non ti serve e fare il dopamine detox con in mente una data finale è una delle cose peggiori che tu possa fare per la tua produttività e per la tua vita. La tua crescita personale non può avere una spinta peggiore di questa, se tu pensi di iniziare adesso a eliminare i social, togliere il fumo, togliere non lo so, ti stai drogando, ti fumi l'erba, togliere l'erba, togliere tutte le abitudini negative per 10 giorni e poi come se nulla fosse riprenderle, allora stai sbagliando completamente visione delle cose. La cosa fondamentale che devi tenere a mente è che il dopamine detox non è una challenge ma deve diventare il tuo stile di vita predefinito e ora forse starai pensando, ma Brunf ma in questo modo non mi posso divertire, tutte le abitudini che mi piacevano non le posso più fare. Esatto, se tu adesso sei in uno stato mentale di schifo, hai la salute mentale a zero, sei alla base della crescita personale, se tu sei in una condizione di cui io mi vergognerei e io non sono al top, cioè già se fumi, già se bevi una volta a settimana io mi vergognerei, dovresti vergognarti anche tu, io se bevessi una volta a settimana mi vergognerei di me stesso. È ovvio, devi smettere con queste cattive abitudini non per una piccola challenge ma per sempre e ti potrebbe sembrare una cosa difficilissima da fare, ma il punto del dopamine detox è rendere le buone abitudini divertenti e far odiare a te stesso le cattive abitudini. Io so perfettamente come arrivare a un punto dove tu odi tutte le cattive abitudini e inizi ad amare le buone abitudini, inizi a desiderare di voler leggere, inizi a desiderare di voler meditare, come adesso desideri di videogiocare, tu in un futuro potresti arrivare a desiderare di leggere 10 pagine di un libro. È in questo modo che il tuo stile di vita cambia, che la tua intera esistenza cambia, che raggiungi i tuoi obiettivi e che puoi realmente iniziare a pensare di aprire un business, iniziare a guadagnare online e tutto quello che vuoi fare. Ma prima di continuare mi presento, sono Branf e in questo canale parlo di crescita personale, business e finanza. Questo video non sarà pesantemente editato perché do importanza alle informazioni piuttosto che all'intrattenimento. Non voglio tenerti incollato quindi con l'editing, ma voglio tenerti incollato perché troverai le informazioni e il video in generale di estremo valore. Detto questo passiamo subito al fulcro del video. Meno di tre anni fa io giocavo ai videogiochi, fumavo sia sigarette che erba, bevevo quasi ogni giorno e avevo tutte le cattive abitudini che tu possa immaginare. Ovviamente non sniffavo cocaina, ma quella più che una cattiva abitudine la chiamerei suicidio. Però ho tutte le cattive abitudini che puoi immaginare e che sicuramente avrai anche tu adesso. Magari non fumi, non ti droghi eccetera, ma videogiochi, fai altre cattive abitudini. E se pensi che videogiocare non sia una cattiva abitudine faresti meglio a ripensarci bene. Perché qualsiasi abitudine che ti dia della dopamina gratis, senza uno sforzo, e che non ti porti a lungo termine nessun vantaggio, è un'abitudine negativa. Videogiocare ti dà tantissima dopamina, ma a lungo termine, a meno che non lo fai come lavoro, non ti porta a nulla nella vita reale. Quindi è una cattiva abitudine. Fumare ti dà dopamina, ma ti fa male alla salute, quindi è una cattiva abitudine. Chiarito un attimo cosa sono le cattive abitudini. Io ero in una condizione schifosa, in una condizione dove letteralmente ogni giorno piangevo perché ero messo in quel modo. Mi ricordo ancora oggi, e ce l'ho ancora oggi sul telefono, che facevo dei video dove parlavo al me del futuro, al me del domani, dove dicevo per favore non fare più queste cattive abitudini. Per favore non fumare. Domani ti sembrerà bello, intrigante, dirai mi rilasso, però dopo che l'avrai fatto starei male. E facevo questi video a me stesso, ma ogni giorno, giorno dopo giorno, continuavo a fumare, continuavo a perpetrare queste cattive abitudini. Fin quando, dopo un po' di tempo, dopo tanto tempo in realtà, tutto su un tratto, ho smesso di fumare, ho smesso di videogiocare, ho smesso di perdere tempo in giro a non fare un cazzo. Ho smesso di fare tutte le cattive abitudini, ho iniziato a meditare, a leggere, a perseguire costantemente i miei obiettivi, ho iniziato a fare più di 10.000 euro al mese. E tutto questo perché ho capito cos'è la vera crescita personale. Al tempo vivevo a Reggio Emilia, adesso sono di nuovo tornato a casa mia in Calabria per concentrarmi sui miei obiettivi. Sì, mi è sempre interessata la crescita personale, comunque sapevo sempre che stavo sbagliando, sapevo che quelle che continuavo a fare erano cattive abitudini. Non sono come il classico ragazzo che magari fuma, beve e non gliene frega un cazzo, ma sicuramente non lo sei nemmeno tu. Perché se sei qui in questo video e sei arrivato fino a questo punto, ti interessa cambiare la tua vita, quindi sei come il me del passato. Quindi non vivendo con i miei genitori, essendo uscito di casa, molto presto, avevo 18 anni, massimo 19, potevo averne, mi sentivo finalmente libero. Tutte le cattive abitudini che non avevo mai fatto fino ad ora le ho iniziato a fare tutte insieme. Ma, come ti ho appena accennato, grazie alla scoperta della vera crescita personale, grazie alla scoperta dei concetti chiave fondamentali, sono riuscito a uscire da quel periodo di merda. E ti posso giurare che io pensavo non ci fosse uscita, cioè ero veramente dipendente dalla dopamina, dalla dopamina a basso costo. Tutto questo perché ho iniziato ad informarmi sul dopamine detox. All'inizio mi informavo con video italiani, ma quello che facevo era continuare costantemente a guardare questi video, continuare a voler prendere azione, ma non riuscivo effettivamente mai a fare le azioni concrete che dovevo fare per cambiare la mia situazione attuale. E tutto questo mi portava ancora di più in uno stato di merda, perché ero lì che non solo facevo le cattive abitudini e continuavo a farle, ma mentre le facevo io stavo guardando video su come smettere di farle, magari mi fumavo una canna mentre mi guardavo un video su come smettere di fumare e poi avevo la frustrazione derivata dal fatto che non riuscivo a smettere di fumare, nonostante mi guardassi quei video. Quindi un bel giorno ho deciso, nonostante il mio inglese non era niente di che, di guardare dei video in inglese. A parte che adesso seguo solo canali americani, praticamente non conosco nessuno youtuber in Italia, cioè li conosco solo perché sono la mia concorrenza in ambito di crescita personale e li voglio asfaltare, ma per il resto non conosco nessuno, cioè non guardo i loro video effettivamente, li ho guardati solo per analizzare le cazzate che dicono in poche parole, ma adesso non solo ho imparato inglese in una maniera veramente assurda, capisco qualsiasi video, i sottotitoli non so più manco che sono, ma ho capito delle cose che, ripeto, in Italia non vengono effettivamente mai dette e una di queste, come ho detto all'inizio video, è che il dopamine detox non è una challenge, il dopamine detox deve essere uno stile di vita. Lascia perdere tutti quei coglioni che ti fanno la monk mod, anche, non lo so, se conosci i mangazzi, i mangazzi, come lo vuoi chiamare, uno youtuber famosissimo che parla di business, c'è business più che altro, la sua azienda, SMMA, cos'è di questo tipo, ti parla della monk mod, ovvero un periodo dove tu per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, non fumi, non bevi, non fai le cattive abitudini, finisce questo periodo e ti dà della pazza gioia, perché, ehi, bisogna avere del bilancio nella vita. Questo ragazzo, nonostante sia multimilionario, rispetto, bravissimo in quello che fa, avrà la vita peggiore che tu possa mai immaginare, perché avrà la salute mentale a pezzi. Eh, ma io comunque quando sono in monk mod, quando faccio il dopamine detox, fumo. Ho visto un video dove dice che fuma il sigaro, continua a fumare il sigaro, perché deve andare a delle riunioni di business e tutti quelli nella sua riunione di business fumano il sigaro, o comunque chi non lo fuma lo vede come una cosa di status maggiore, fumare il sigaro, un bel cubano da 150 euro, l'accendino, il tagliasigaro, tutte cazzate. Se tu adesso stai pensando di fare il dopamine detox per 10 giorni e di cambiare la tua vita e poi automaticamente tu non avrai, non sentirai più il bisogno di fare le cattive abitudini, stai sbagliando. Devi pensare di instaurare delle abitudini positive per tutta la vita ed eliminare le abitudini negative per tutta la vita. Non esiste un equilibrio. Non esiste un equilibrio. Cioè, tu hai mai pensato di avere un equilibrio col cianuro? Il cianuro è un veleno. Però a piccolissime dosi non fa male. Perché non te lo prendi giornalmente? Non ti fa male, giusto? No. Perché è un veleno. Andando avanti morirai. E allora perché vuoi avere un equilibrio col fumo, con i videogiochi? Perché vuoi avere un equilibrio con l'alcol? L'alcol è peggio della cocaina, secondo me. Perché almeno la cocaina sai che fa male e non la usi. L'alcol pensi pure che fa, diciamo sì, un bicchiere al giorno fa bene. Cazzate. Cazzate. Tu devi eliminare completamente dalla tua vita queste cose. Eh, videogioco un'ora al giorno. Cazzata. Ovviamente starai pensando, ma è difficilissimo, come posso pensare di da oggi in poi eliminare queste abitudini? Ovviamente da oggi in poi non le eliminerai. Ma quello deve essere il tuo obiettivo finale. Cioè magari tra uno o due anni di crescita personale, se proprio sei come me che non riuscivo a smettere, devi comunque avere questo obiettivo di tra uno o due anni al massimo eliminare tutte le abitudini negative per sempre. E da quel punto in poi non le farai mai. In questo modo attui il dopamine detox nella maniera migliore, nella maniera sana. Perché facendo effettivamente questa cosa, tu andrai a sviluppare un interesse e una voglia di fare le abitudini positive che sarà pari alla voglia che adesso di videogiocare o sarà pari alla voglia che adesso di fumare l'erba. Io provo lo stesso piacere che provavo al tempo a farmi una canna a registrare questo video. Provo lo stesso identico piacere. Io provo la stessa dopamina. Semplicemente perché mi sono disintossicato da quelle cose. Il mio livello di dopamina si è abbassato ai più bassi livelli. E adesso anche andare fuori per una passeggiata, dato che non ho dopamina gratis. Anche andare fuori per una passeggiata mi può dare tantissima dopamina e mi rende felice. Ora sta piovendo fuori, io sono felicissimo di sentire come sottofondo questa pioggia. Una volta con tutte quelle abitudini negative me ne sarei fregato, non mi sarei nemmeno accorto che sta piovendo. Non sarei stato realmente nel presente. Quindi devi cambiare approccio. E per cambiare approccio e riuscire a smettere per sempre con le abitudini negative, non devi fare tutto insieme innanzitutto perché fallirai. Ma devi immaginarti come se non le avessi mai fatte. Devi un attimo mentire a te stesso. Nel senso non devi essere il classico fumatore che va al centro di recupero con tutti gli altri fumatori che raccontano storie dei loro fallimenti. Cioè quello è un ambiente che ti porterà a rifumare, ma 100%. Il vero, la vera persona che smetti di fumare dice Ok, non sono un fumatore, punto. Non è che dice Eh, ho smesso a 60 giorni la medaglina, 90 giorni, 8 mesi, un anno. No, perché ha ancora in mente il fatto che fumava, il fatto che è un preciso arco di tempo che hai smesso di fumare. Invece la tua mente deve switchare e deve passare al fatto che tu non fumi, tu non sei un fumatore. Non è che sei uno che ha smesso di fumare da un anno, sei uno che non fuma, punto. Una volta che la tua mente switcha dal capire che il dopamine detox deve essere uno stile di vita e non una challenge, e poi successivamente dal capire che tu non sei le tue abitudini negative, ma tu sei chi vuoi essere. Quindi se smetti di fumare non sei più un fumatore. È come se non lo sia mai stato, perché conta solo il presente ed il futuro. Una volta che capisci queste cose, allora realmente puoi cambiare la tua vita in meglio, avviare il tuo business, raggiungere il successo che tanto desideri. E che è giusto desiderare, perché appunto siamo uomini. E il desiderare di fare 100.000 euro al mese, 200.000 euro al mese, desiderare di fare soldi, desiderare di attrarre donne belle, è un desiderio normale di ogni uomo e tutti lo desiderano, tutti desiderano di fare soldi, tutti desiderano le belle donne, ma nessuno lo ammette. Tutti desiderano la vita migliore possibile, ma nessuno l'ammette, perché al giorno d'oggi ci stiamo accontentando, dandoci delle alternative alla vita vera. Per esempio i videogiochi ti danno l'alternativa alla tua voglia di avere progressi nella vita vera. Pensaci, nella vita vera in teoria dovresti riscontrare dei problemi, trovare una soluzione, risolverli e quindi aumentare di livello. È la stessa cosa che accade nei videogiochi. I videogiochi sono stati creati apposta per far sì che tu non persegui l'aumento di livello nella vita vera, ma resti sempre allo stesso livello nella vita vera, perché tanto ti colma quella voglia di aumentare di livello il videogioco. Quindi tu sopprimi la tua voglia di aumentare di livello nella vita vera perché tanto lo fai nel videogioco e inganni la tua mente che stai effettivamente aumentando di livello. Quando in realtà nella vita vera rimani il solito coglione che sta a casa sua a farsi le pugnette, quando in realtà dovrebbe andare fuori e prendersi la donna dei suoi sogni, prendersi tutti i cazzo di soldi che vuole fare. Non capisco perché al giorno d'oggi viene visto male una persona che vuole guadagnare tanto. Tutti vogliono guadagnare tanto. E se tu adesso stai pensando No ma a me bastano 3000 euro al mese, sei fottuto di cervello, sei proprio fottuto. Il desiderio umano dell'uomo proprio come animale, quello di conquistare e dominare sugli altri uomini, sugli altri animali, siamo animali, tutti hanno questo desiderio. I leoni, le gazzelle, qualsiasi animale ha questo desiderio, ha questo istinto primordiale. Se tu non hai questo istinto primordiale e ti accontenti, vuol dire che il matrix, come lo chiama Andrew Taito, comunque il sistema sta avendo effetto su di te. E tu realmente sei stato influenzato, e tu realmente in questo momento hai così tante abitudini negative, e così poche abitudini positive, che non riesci a capire i tuoi reali desideri, che sopprimi i tuoi reali desideri, perché tutti hanno come desiderio quello di dominare sugli altri. Il fatto che, no, 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 ma stai tranquilla, io sono un bravo ragazzo, io non ti faccio niente, non capisco perché vai con quei ragazzi cattivi che vogliono... No, 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 io non voglio competere con te, io competo solo con me stesso. Tutte queste sono cazzate. Ovviamente non è il classico video sul dopamine detox, perché non ti ho detto le classiche cose, ma ovviamente esistono e sono vere, ovvero aumenta la tua motivazione, aumenta il fatto che tu progredisci nei tuoi obiettivi, maggior rispetto di te stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il vero beneficio, il beneficio apice, il maggior beneficio del dopamine detox, è quello che la tua dopamina da 100 passa a 0, perché elimini le abitudini negative che ti danno dopamina, e una volta che a 0, anche un piccolo incremento di 10, ti fa provare piacere. E tu quel piccolo incremento lo puoi provare dai libri, da andare in palestra, da tutte le attività che adesso trovi noiose, che diventeranno in un futuro le attività che più vuoi fare. E tu vuoi arrivare al futuro dove le attività che più vuoi fare sono il lavoro, la lettura, la meditazione, eccetera, eccetera, perché quelle attività ti danno i maggiori benefici nella vita, il resto sono tutte cazzate che hanno inventato per tenerti schiavo. Fine. E non è un complotto, una cosa, se non riesci a capirlo sei stupido, ti stai facendo fottere, e tu non sei stupido perché sei arrivato fino a questo punto. Se il me di tre anni fa avesse visto questo video sarebbe esploso, non esistono queste informazioni in Italia, cioè sono informazioni che ti fanno fare il click, che ti fanno cambiare mindset. Quindi io spero, perché questo è il mio obiettivo, spero di aver fatto fare questo click a qualcuno. Ti chiedo solo una cosa, non voglio niente in cambio, non ti voglio vendere niente, ti chiedo di iscriverti al canale, lasciare un like, condividere il video con un tuo amico, fare tutte queste cose, attivare la campanellina, le classiche cose che ti dicono quelli youtuber inutili, però falle realmente perché mi servono, in maniera che l'algoritmo mi indicizzi meglio, e mi faccia arrivare da più gente possibile, e in maniera che così io ottengo dei risultati da questo canale, e ottenendo dei risultati continuo a fare video, e quindi ne benefici pure tu, perché se continuo a fare i video, avrai le migliori informazioni, e il valore più alto che puoi avere, e quindi la tua vita migliorerà. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando.